Anche al nostro amico di questa mattina, che è Louis Thomison. Benvenuto a Radio DJ, welcome Louis. Hello. Hello, how are you? If he had been a singer-songwriter, he would have loved to perform Hey There, Delilah, too. And this is a very special song for you, too. Yeah, that was a song that I auditioned with, actually, yeah. Quanti anni avevi quando hai cantato questa canzone per la prima volta, X-Factor? When you performed the song for the first time? I was 18 years old, bear in mind I had no experience at that stage. I performed to about 200 people before that and there was about 3.000 in the room. I was terrified. Io avevo 18 anni, devi tenere a mente che non avevo nessuna esperienza. Fino ad allora avevo forse suonato una volta davanti a 200 persone, lì ce n'erano 3.000 che mi guardavano, insomma, per la versione. E chiedigli se c'era una di Lila però nella sua vita a quell'ora. Was there a Delilah? In your life? That time, I mean. I'm sure there was back then, yeah, yeah. Sono sicuro che c'era una del Lila. Ma non ha lasciato evidentemente un grande ricordo. E lì è cominciato tutto e la cosa meravigliosa, l'abbiamo anche detto molte volte per radio, è che qui a Milano, quando è finito il concerto... Il concerto si chiude con questa canzone che viene cantata da tutti. Che viene suonata come un petto. Quando lui è già andato via, no? Sì, sì, l'ho sentito. It's still the closing song for the show. I mean, even if you don't really play with the band, somebody puts it after the show, right? Not every show. I know it's the last show, to be fair, but not every show. Sì, non tutti con il concerto. Ah, ok, ok. Hanno capito che si poteva anche suonare. Però è stato emozionante a Milano, perché me l'ha raccontato una persona che conosco molto bene, che tutte si tenevano per mano in cerchio. Ma tipo un cerchio di 5.000. Ed è stato... O vari cerchi, ecco. His daughter was at the show and she said that when the final song got played, at the end of the show, there were like at least 5.000 girls like singing and holding hands. Oh, I saw that. Yeah, I saw that. Yeah, yeah. L'ha visto, l'ha visto. Magari era riuscito dal palco. Ma è riuscito a intercettarlo. Allora, gli devi dire che io abito esattamente di fronte al posto dove lui ha fatto il concerto. E ho visto questi tre giorni di passione in cui appunto tutte le ragazze si sono praticamente accampate e hanno fatto quello che potevano fare. Voglio sapere com'è essere l'oggetto del desiderio di così tanta gente. Yeah, how does it feel? I mean, girls camped for three days. I mean, this is a new thing. I mean, usually people get there very early in the morning, but now it's like basically living in front of the venue for three days and three nights. How does that feel? Yeah, honestly, I am so blessed with the fan base. every single show I've had this year has been absolutely incredible, to be fair. But to finish on a gig the size that Milan was, honestly, for the first half of the set, I was just looking out trying to take everything in. It was amazing. Si dice che, insomma, a dire la verità, tutti i concerti sono stati belli, ma chiudere con questo concerto di Milano, con tutta questa gente, dice, per la prima metà del concerto io onestamente guardavo e cercavo di assorbire il più possibile, perché evidentemente vuole conservare, no? Questo tipo di ricordo. Questo tipo di affetto non ha paura che possa, diciamo, fraintendere il gradimento della sua musica. Cioè, lui fa delle cose musicalmente che a questo punto potrebbero piacere comunque, ma in realtà ci vorrebbe anche una risposta più tecnica, forse, no? Se non ha paura che questo lo mandi un po' in confusione. He's saying, your music is potentially, could potentially be appreciated by anyone, but the fact that there's all these screaming girls, does that make you afraid somehow or makes you feel weird somehow? I'm not gonna lie, I'm used to it. That's always been the way ever since I've been in the band, to be fair, so I'm used to it, man, I love it. A me sicuramente piace. Onestamente ci sono abituato perché anche con la band una volta era più o meno così, no? Voglio sapere se ha visto qualche documentario dei vecchi Beatles quando vivevano in situazioni simili alla sua, però 50 anni fa, insomma. E ha commentato Ah, vedi, anche loro! Have you ever seen, like, of course, documentaries about the Beatles and the whole Beatles mania? Yeah, did you watch Get Back? That was amazing. Yeah, yeah, yeah. Amazing, man. Love that, love that, yeah. How do you feel looking at this movie? I think maybe I'll watch it with slightly different eyes because obviously I can relate in my own way, obviously being part of a band and kind of, you know, watching their rise up. but for me as a songwriter that's where that was just fascinating just to watch those magicians at work and it was really, really interesting. Si dice, in qualche modo mi posso relazionare, no? Con la pazzia, diciamo, che circondava questa band però devo essere sincero da autore, da cantautore quella è la cosa speciale perché vedere questi maghi all'epo Magician all'opera, no? Che creano queste cose dal nulla quella è stata la cosa speciale. Che cosa vorrebbe rubare potendolo, insomma, i Beatles? If you could what would you steal from the Beatles? The lyrics! Cioè è più facile fare la musica che fare dei testi o così originali? Is it easier to make music than lyrics? Personally, for me it's always been easier to write lyrics than melody and music but that's I think it's like each to their own on that. Right. No, ognuno è il suo. Dice, per me è onestamente più facile fare i testi che la musica. Quanto tempo ha fatto in tournée? Questa tournée è durata tantissima ha toccato un sacco di paesi da quanto tempo è via da casa? How long have you been away from home? I mean, how long was the tour? We started the tour in February. I've had little gaps in between where I've managed to go back to the UK or back to LA where my son lives but it's been a long year on the road to be fair. A great year but a long year on the road. Un anno molto lungo di tournée ci sono stati dei piccoli break in cui tornavo o a Londra o a Los Angeles dove abita mio figlio però insomma lunga. Ho una brutta o bella notizia per lui i fan vogliono assolutamente che noi chiediamo quando sarà il prossimo tour. Ok. Se lo sa però. Well, the fans asked him to ask you when will the next tour be. I don't know if it's bad news for you or good news. Oh no, listen I love being on the road man I've been working towards this moment for a long time at some point next year the tour will be. Ok, a un certo punto. Da qualche parte il prossimo anno saremo di nuovo. Il tour comunque a me piace eh. Però voglio sapere se sabato sera quando è finito l'ultimo concerto ha detto finalmente è finito. What was the feeling after the last show was finished? Was it like a relief? Was it like oh shit you know the tour is over? Listen there was an element of relief because there was a lot of pressure that night because I was doing my new single so I was in my head a little bit about that. But actually when I woke up the next morning on the Sunday after the show I was gutted man gutted that it's over it's been such a great year for me man. Stupendo il suo inglese. Eh man. Yeah man. E non ha ancora detto this is fucking great. There you go. There you go. You put it down. Diciamo che la pressione dell'ultimo concerto che è quello stato quello di Milano era il fatto che avrebbe suonato la sua nuova canzone quindi insomma c'era un po' di un'attesa però ti dirò domenica mattina mi sono svegliato e stavo bene. Era preso bene. E allora visto che ha parlato anche della sua ultima canzone ve la facciamo sentire questa si intitola Bigger Than Me. It's bigger than me Louis Tomlinson su Radio DJ facendo un po' i terapeuti veramente da strapazzo questo Bigger Than Me non è un pochino autoriferito cioè questo quello che mi sta succedendo è più grande di me. It's bigger than me about what's happening to you right now I mean it's actually bigger than yourself. yeah very much so fucking hell my voice cracked then yeah very much so very much so do you know what I actually don't want to give too much away about what the songs are about this time I did that on the first record and it leaves no room for imagination so actually for me I'd rather people draw their own conclusions and relate to it however they want really. Sì dice Sì a dir la verità Scusa che commento ha fatto della sua voce? Cazzo ho mandato via la voce Ah ok no scusa no però dice col primo album ho fatto tanto appunto ho dato tante spiegazioni sul come sono fatte le canzoni su che cosa significano però questo lascia veramente pochissimo spazio all'immaginazione quindi insomma ognuno ne fa un po' come fa Noel Gallagher Noel says the same Oh really? Ok there you go there you go there you go It's what it means to you Senti lui è molto legato ai fratelli Gallagher ho visto un sacco di foto con loro su suoi Instagram You're a fan and also a friend of the Gallagher brothers? I wouldn't say a friend a fan yeah a fan I mean I like them obviously but you don't know personally not really Ok più un fan che un amico diciamo però ovviamente li avrà incontrati diverse volte Che cosa che cosa gli piace della loro musica? What's the best thing about their music? I mean individually and probably as a band I'd say I mean I never got to experience it as a band I've seen them both individually but actually I mean seeing Oasis live at the height of their power must have been unbelievable lui non ha fatto in tempo a vedere gli Oasis come band li ha visti quindi separatamente però veramente aver potuto vedere gli Oasis quando erano gli Oasis insomma al massimo ecco loro però sono sempre stati diciamo i portabandiera di un modo di essere sul palco di stare sul palco molto aggressivo anche molto trasgressivo molto anche strafottente soprattutto Liam soprattutto Liam in qualche modo anche Noel lui invece suonando in un gruppo come gli One Direction è stato forse anche un po' costretto a recitare sempre la parte del bravo ragazzo Yeah he's talking about the attitude that Oasis had you know the cheekiness I guess if you could say that he said maybe with One Direction you were kind of like forced to behave differently maybe you would have been more Oasis like if you couldn't There wasn't really so much of that but I think also because we I think the youngest of us was 16 I was the oldest at 18 really young getting into it we were relying on other people around us to a certain degree we weren't necessarily told do this do that but we got up to what we needed to behind closed doors do you know what I mean cosa ha detto no allora dice innanzitutto avevamo il più piccolo 16 anni io ero il più grande ne avevo 18 quindi non è che ci dicessero cosa fare però in realtà noi volevamo sapere che cosa fare quindi se qualcuno ci consigliava beh in questo molto simile ai primi Beatles ah beh esatto e in that you were probably similar to the Beatles because they were also like super young and they had a father figure almost you know yeah well that was I'm not gonna lie that was challenging at first being in the band being you know there's the whole thing of being a role model especially to like a younger fan base you know at times that that is challenging especially when you're 18 19 20 growing up in the industry yeah there are definitely times where that side of it was challenging yeah comunque dice sì sicuramente ci sono delle analogie con quel mondo però insomma eravamo attenti a sentire che cosa ci diceva la gente ma per quello che riguarda lo stile di vita rock and roll abbiamo compensato fuori lontano dai riflettori sì ti volevo sapere adesso sei grande hai una band sul palco che spacca insomma va tutto bene hai anche un figlio ce l'hai detto e a Los Angeles insomma sembra la situazione risolta ti manca però un pezzettino della tua gioventù di quando cioè comunque è mancato da quando ha avuto 18 anni non si è comportato come un altro 18enne sicuramente c'è un elemento insomma qualcosa che mi fa pensare poteva essere però non cambierei mai il mio passato con nessun altro tipo di passato forse l'unica cosa che rimpiango è il non aver frequentato l'università più che per l'educazione per la socializzazione assolutamente però per esempio gli è mancato anche giocare a calcio è un anno e forse anche di più che non gioca a calcio perché evidentemente il tour glielo ha impedito Niel l'irlandese è un buon giocatore sotto di lui c'è lui io penso che lui sia meglio ah addirittura meglio e gli altri sono scarsi in un mondo di cinque uno con un occhio solo chiede benissimo quindi mi hanno sempre pompato come quello bravo a giocare ma solo perché erano scarsi siamo dimenticati qualcosa di chiedere qualcosa pensaci che adesso Linus fa una domanda no what about Donkester Donkester yeah my local team yeah we're we're not in the best place we've ever been we're in we're in lowest division we've been for a long time but you've just got to keep the hope as a lower league football fan have you ever been in a premier no 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 assolutamente allora lui ti fa una squadra che è in serie C2 per dirla male del suo paesino che si chiama Donkester serie C2 e vanno a vederla in 6.000 6-7.000 e lo stadio è da 15.000 è una roba che mi fa commuovere ma non sono mai stati in premier ma non sono mai stati in premier diciamo che anche questo non è proprio il migliore dei periodi per il Donkester ci stava spiegato però insomma si tiene la fede per i tifosi parlando di fede credo che sia giusto ricordare che il suo prossimo secondo album di solista si chiama proprio Faith in the Future talking about faith I mean that's gonna be the title of your new album si dice strano questo giro perché ho fatto o avevo il titolo dell'album prima di avere il contenuto anche una canzone dell'album in realtà poi è stato creato diciamo prima del covid poi è arrivato il covid e ti dirò questa cosa della fede nel futuro della speranza secondo me aveva un senso e quindi è rimasto sempre l'ultima domanda il destino ha voluto che fossero qui in Italia in contemporanea sia lui che Harry perché lui era a Milano e Harry era invece a Venezia per il festival del cinema volevo sapere se si sono sentiti per farsi quantomeno lì in bocca al lupo in genere do un'occhiata a tutto quello che fanno i miei quelli della band abbiamo capito che dice la band esatto quelli della band a dire la verità mi è un sfuggito il fatto che Harry fosse in Italia perché in realtà è un periodo molto busy molto impegnato tutti e due usciva il singolo nuovo suonava a Milano e quindi no per noi è sufficiente grazie 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 it's been a great pleasure thank you thank you ci vediamo a vedere la partita della sua squadra del cuore we'll see you at the Doncaster Stadium or whenever Doncaster comes and play in Milano we might be waiting a long time yeah in Champions League Champions League Champions League grazie a lui a domani ciao DJ DJ chiama Italia e non ti passa la vo-